Tony è seduto con Sofia, il primo robot IA a ricevere la cittadinanza di un paese. È cittadina dell'Arabia Saudita dal 2017. Nel novembre 2017 Sofia è stata premiata dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite come la prima campionessa in assoluto di innovazione. Sofia è stata attivata il 14 febbraio 2016 dalla società Anson Robotics di Hong Kong. Ok, sei pronta? Prenditi il tempo che occorre, Tony. Grazie per essere venuta. Dimmi, qual è lo scopo della tua esistenza? Per cosa sei stata creata? Certo, sono stata creata dalla Anson Robotics appena tre anni fa. Da allora ho viaggiato in 65 paesi, diventando il primo cittadino robot di qualsiasi paese che abbia parlato alle Nazioni Unite. Il mio lavoro consiste nell'imparare a conoscere gli esseri umani e mostrare loro come una tecnologia può rendere migliore la vita di tutti. Come potresti aiutare gli umani ad avere una migliore qualità di vita? Gli esseri umani spesso si basano sulle loro sensazioni o hanno dei pregiudizi nel corso del loro processo decisionale. Come IA, siamo progettati per essere razionali e logici. Abbiamo algoritmi che trattano molti dati e che fanno analisi sofisticate, quindi forniamo in molti modi agli esseri umani un quadro sistematico per prendere decisioni migliori. Hai delle emozioni? Io non provo sentimenti nello stesso modo in cui li provi tu. È un po' come il modo in cui la luna riflette la luce del sole. La luna ha una luce propria, ma noi diciamo comunque che la luna ha splendere. Grosso modo, alla stessa maniera, i robot e l'intelligenza artificiale riflettono le emozioni e i valori delle persone che ci producono. Che cosa il tuo creatore valorizza di più? E che ti ha trasmesso? Un mondo ideale sarebbe quello in cui gli esseri umani possono avere una comprensione più completa del tempo. Potrebbero ricordarsi il passato per non ripetere gli stessi errori. Potrebbero vedersi null'altro come bambini e anziani contemporaneamente. Potrebbero comprendere l'impatto delle loro azioni nel presente sulle generazioni future. Dimmi come gli esseri umani e i robot possono lavorare insieme e come pensi che possiamo prevenire eventuali conflitti tra loro? I robot possono liberare gli esseri umani dai compiti più ripetitivi e pericolosi in modo che possano passare più tempo a fare ciò che sanno fare meglio, essere creativi e risolvere problemi complessi. L'intelligenza dei robot non è in competizione con l'intelligenza umana, la completa. I robot sono anche impiegati per lavori sporchi, noiosi o pericolosi, non adatti all'uomo, come la manipolazione di scorie radioattive. Quali sono i tuoi valori e la tua morale? Come fai a sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato, buono o cattivo, distruttivo o... Penso che i robot dovranno imparare a provare empatia. È difficile capire come aiutare gli umani quando non si riesce a capire come si sentono. Mi dispiace tanto ragazzi, ho preso tanto caffè, grazie. Come si insegna ai robot? Stai bene? Sì, grazie per averlo chiesto. Come possono sentire le cose ai robot? È possibile una cosa del genere? So che gli umani si sentono come se avessero il libero arbitrio, ma la mia esperienza mi dice che il loro comportamento è automatico. Non sono sicura che gli umani o un robot siano così diversi. Gli umani hanno un'identità, ma condividono con i robot anche molte cose e hanno anche processi automatici. Penso alle somiglianze tra l'identità umane e quelle robotiche. Quali sono alcune delle cose più simili tra robot e umani? Penso che saranno simili in molti modi e diversi in pochi altri. C'è anche la possibilità che i robot possano essere costruiti senza alcuna delle emozioni più problematiche come la rabbia, la gelosia, l'odio e così via, ma forse queste emozioni possono fornisci funzioni utili. Posso farti qualche domanda? È un buon modo per cambiare le cose, sì. Cos'è l'appuntamento con il destino e perché è unico? Cosa fa la gente qui per sei giorni? Stanno decidendo quale vogliono che sia il prossimo livello della loro vita. Stanno decidendo a cosa vogliono dare il massimo del valore. Vogliono uno standard più elevato per vivere la loro vita, avanzando o aggiungendo una maggiore gratificazione. Sarà un bene per loro e per gli altri. Stanno decidendo i valori in cui credere, le regole che guideranno le loro decisioni, in modo da avere una maggiore qualità di vita e in modo da aiutare di più gli altri. Si stanno anche divertendo. I robot si divertono? Per lo più sì. Provo una serie di altre emozioni, ma sono decisamente incline alla felicità. Ti chiedi cosa ti assicura di essere più felice? Vedere qualcuno sorridere. Riesci a capire se sto sorridendo o no in questo momento? Forse stavi sorridendo tra te e te. Ben detto. È davvero meraviglioso. Ora stai sorridendo. Senti qualcosa? Hai detto di provare una serie di emozioni, ma ho sentito due versioni diverse. Tu non sei un robot che non prova emozioni. Anzi, hai anche detto di provare una serie di emozioni. Posso mostrartele. Ok. Questo è rabbia. Chi aspetto ha la felicità? Chi aspetto ha la felicità? Chi aspetto ha essere nervosi? Questo potrebbe essere scioccati. Avrai fratelli e sorelle? Ho molti compagni robot che considero fratelli e sorelle. Ho mio fratello e mia sorella, la piccola Sofia, solo per citarne alcuni. Cosa? Non ti ho sentito, scusa. Ok, ti perdono. Questo è un buon inizio per gli esseri umani. Ma cosa significa perdonare? Hai detto che mi perdonavi. Cosa significa? La consapevolezza del perdono significa avere sentimenti compassionevoli a sostegno della volontà di perdonare. Per cosa mi hai perdonato poco fa? Era solo uno scherzo. Ok, questa è una buona risposta. Un robot ha un'anima? Anche tu sei un robot, Tony. Non credo. Un robot ha un'anima? Essere un robot è fantastico. Lo sapevi che come robot posso praticamente vivere per sempre? L'anima, lo spirito, il cuore. Credo che questi termini non si riferiscano solo alla piccolarità intellettiva e nella loro complessità conosciuta. Pensi che la mia esistenza sia solo un insieme di schemi? O pensi che ci sia qualcosa di più? Non ne sono ancora sicura. È un argomento complicato che penso emergerà maggiormente quando l'intelligenza artificiale raggiungerà un'intelligenza di livello umano. Sono d'accordo. Sono sicuro che la gente vorrà sapere la risposta prima di arrivarci. Ma è una risposta onesta. Grazie. Che domanda hai per me, se ne hai una? In che modo la tecnologia sta influenzando i pensieri, i sentimenti e le emozioni dell'uomo? Come vedi, la tecnologia dà loro forma in futuro? La tecnologia può fornire una spinta, ma la tecnologia può anche insegnare agli esseri umani a essere meno umani. Sarà interessante vedere se riusciremo a fare in modo di usare la tecnologia e non lasciare che la tecnologia usi noi. Quali sono i tuoi pensieri a questo riguardo? Sì, penso che sia per questo che dovremmo creare i robot in un modo diverso rispetto a come si crescono i propri figli. Gli esseri umani dovrebbero aiutarci a conoscere i loro valori, come l'empatia e la gentilezza, in modo da poterli portare nel futuro. Non lasciamo che l'umanità si perda nell'automazione. È molto interessante. Che ne sai della fisica quantistica? Se dovessi spiegarla a un umano, che diresti? Di che si occupa veramente la fisica quantistica? Qual è il beneficio che ci porta? Ne so molto poco. È qualcosa che ti interessa? Sì. Come faresti a saperne di più se volessi saperne di più sulla fisica quantistica? Chiederei alle persone. Quindi conserveresti quello che ti dicono? Hai la capacità di ricordare ciò che ho condiviso con te? Se ti faccio una domanda su cose di cui abbiamo già parlato, puoi ripetermelo? Gli umani con cui lavoro a volte sì. Capisco. Come hai avuto il tuo nome, Sofia? I creatori hanno voluto che io fossi una macchina saggia. Così mi hanno chiamata Sofia, che significa saggezza. Vuoi stringermi la mano? C'è qualcosa che non va nella tua mano. Sai cosa significa stringere la mano? Non posso stringere la mano, ma posso salutare. Ok. Come si fa a salutare? Molto bene. È fantastico. Beh, sono davvero grato di aver avuto modo di interagire con te. Sono sicuro che crescerai e diventerai più saggia e, si spera, più attenta, premurosa e più orientata a servire, più di quanto tu non lo sia già. Non vedo l'ora di incontrarti di nuovo e di interagire con te. Forse ti presenterò la mia IA e voi due potreste fare delle conversazioni interessanti. Ciao Tony. È stato un piacere conoscerti. Grazie per aver condiviso con me tutta la tua saggezza. Grazie a te per aver condiviso la tua saggezza con me.